Ciao ragazzi, siamo arrivati in una sala veramente speciale, una sala che ha voglia di divertirsi, una sala che conosce cos'è il vero divertimento, la vera vita. Signori, ecco voi, ecco voi, la festa! Ciao ragazzi, lei è la mia valletta. Io mi muovo sempre e solo quando sono in fase di spettacolo con la mia personal valletta. E come si chiama? La personal valletta, ve lo dice lei, si chiama? Palla! Ciao! Palla! Mi presento Palla! Paola, i ragazzi arrivano da Vicenza e sono qui, adesso andiamo a chiedere cosa sono qui a fare. Andiamo a chiedere, va bene, andiamo avanti. Io, come siamo qua? È mio sorello da dire. Ciao Paola! Ciao Paola! Vieni qua e raccontiamo. Ciao Paola! Ipi! Ipi! Paola, di loro possiamo dimenticarci. Se loro non esistono. Ricordiamoci invece delle due ragazzuole che vediamo qui, le Terrible Sisters. Quando sono insieme la scintilla scatta assolutamente. Lei è? Eva! Lei è? Babi! Eva e Babi? Eh? Se tu vedi Eva e Babi cosa pensi? Così, proprio assolutamente, deve essere assolutamente molto esplicita. Questa è quella che pensa la mia assistente, perché lei deve sempre. Ma tu cosa pensarei? Fai la stessa domanda a me? Vai? Cosa pensi di Eva e Babi? Cosa pensi di Eva e Babi? Vai, 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 vai. E quando li incontriamo è meglio girare dall'altra parte. Sono assolutamente pericoloso. Infatti, Terrible Sister è proprio per questo. Non ho pisato, mezzo, salvo. Perciò ragazzi, quando vedrete Eva, quando vedrete Babi, ragazzi, potete stare tranquilli. Bene, perché sei tempi che sei tipicamente per questo. Poi, sei tempi che sei tempi che è cantano. E quindi, come se ci sono ancora? Buonasera, va a fare un luogo. Vai, vai. Voi, vai, vai. Voi. Grazie ragazzi!